Il treno sanitario anche in Veneto, ma soltanto dopo la sperimentazione sull'alta velocità Milano-Roma, con tampone prima di salire a bordo, anche se, pontualizza Zaia, l'obiettivo è la vaccinazione di massa. Ma guardate, noi vogliamo presentare la regione Covid-free, bisogna fare vaccini. Se ci danno i vaccini, vacciniamo, tutti i Veneti saranno vaccinati, l'Italia saranno tutti vaccinati e quindi potremo presentarsi al mondo come Covid-free. Taglio del nastro per la cerimane di consegna del ventesimo treno POP alla flotta regionale. Dopo quelli consegnati a gennaio e febbraio, si tratta per l'esattezza del settimo giunto in questo 2021 sui binari del nostro territorio. Eccolo alle mie spalle, il treno dove spicca il Leone di San Marco, il regionale Venezia Bassano, che prenderà, diciamo così, servizio proprio da oggi. Una velocità massima di 160 km orari, il POP, conta 305 posti a sedere dotati di prese elettriche e USB. Più 6 posti bici, nei quali è possibile ricaricare anche i cicli elettrici. Treno regionale che rientra nel programma di rinnovo della flotta, previsto dal contratto di servizio sottoscritto da Regione Veneto e Trenitalia. Un miliardo di euro su tutto, sui treni prima di tutto, ma poi anche sulla loro manutenzione. E' importante quello che stiamo vedendo oggi perché entrano in servizio sempre nuovi treni e la percezione del passeggero nel vedere nuovi treni, il confort che gli diamo è importantissimo. Il contratto prevede la consegna di 78 nuovi treni, 47 ROC e 31 POP da qui ai prossimi anni. Con la flotta regionale che aumenterà di altri due treni dal prossimo marzo. Portando il totale della flotta Veneta per questo 2021 a 22 treni per un investimento di oltre 660 milioni di euro. Benvenuti in Giappone perché? Perché stiamo parlando del ringiovanimento di tutto il parco macchina che passerà da 16 anni di media di età a 4 anni. Grazie.